Che hai fatto? Oh, Cristian! Vai, registriamo da mo' la... la sborra insieme. No, facciamo... Ok, con la roba liberina. Ah, un attimo, un attimo, un attimo. Ma cos'è? Sono tutto rotto. Oh, Cree, io mi devo togliere sto schifo! Eh, tolite! Ah no, tu vuoi fare lo Shrek! No, dai, no, no, no! Vieni qua, Shrek, che ti frusto! Come non tolgo sto schifo, mo? Boh, non lo so. Ahia! Ah, sono rotto! Eh, sì, vabbè, ma toliti il cazzo. Aspetta, Cree, come faccio? Eh, provati po' a cambiare skin. Eh, come? Ma che cazzo. Cioè, dove sono le altre skin gratis? Eh, non lo so. Ma perché tu dove l'hai trovato Shrek? Eh, qua dentro. Qui dentro. Eh, aspetta, com'è che devo fare? Ma io non mi ricordo più come si faceva ad entrare. Aspetta, aspetta! Sì, come? Ah, no, no, no. Cosa qua un bambino indifeso? Oh, no, questo bambino è educato un pochino male. E tal forse ho capito Salve Salve Ma come si fa c'è? Mi può compagliare la casa Ok, e dov'è la sua casa? Come? Dov'è? Cos'è? Dov'è la sua casa? Ehm, l'area 69 Ok, seguimi Attento, ci potrà essere qualche scopratore notturo Ehm, il ladro Ladro Oh no Scappo Tug Adoro Tug 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 Qu complain rag A Che Che ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono kreegamer e oggi e oggi faremo la vita la vita nella city la vita nella city la vita in città no e vabbè io sono il ladro lei la polizia mamma mia e devo fare roba madonna che scarsa polizia oh ragazzi facciamo un party pacifico andiamo a sentire la musichetta cluster launcher alo no costa aiuto aia porca no 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 i i i i i i i mi scusi cosa vuole ragazzi volete sentire un pochino di sana musica sentite un asmo ehi si devo dirle che quello che sta facendo qui è assolutamente illegale no signore sto ascoltando signore sto ascoltando no signore no signore senta senta la musica no ok 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 senti la musica ok Ora Sì Oh Oh Così Signore È Il Signore No Polizia No Polizia Se ne vada troie Polizia No è morta la polizia Ce l'ho ce l'ho Doi stai Ciao Stai prendendo il scudo Dov'è signore? Mi scusi Ehi ma dove sei scudato? Mi scusi sto cazzo Il tuo scudo E ce l'hai in mano? No Sì ma Che cazzo E la vita È mafia city Questa È mafia city Vieni bambino andiamo a sentire Questa è andrà musica Vai 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 Questa è la tua persone Play now Ma cos'è sto robot che gira? Boh Non si muove Si raga ma che vita in città di me Oh mi scusi Mi scusi C'è una esplosione Ma questa qua è mafia city Non hai capito? Mafia city eh Mafia city Andrè metti Andrè metti la voce lower E ce l'ho già lower Eh da senti? Raga inviti Non No, bambino, no, bambino! Ehi. Drugs. Ehi! Ah, che vuoi? Quello che state facendo è totalmente illegale! Di, che c'è. C'è, che c'è! Ma che c'è? E' un'altra cosa! Ma che c'è? Mi scusi! Mi scusi! Questa attività è totalmente illegale! Mi scusi! Mi scusi! Oh, anò un musso! No! Dio sboio! Mi scusi! No, aspetti! Mi scusi! Mi scusi! Questa attività dove... No! Mi si è strigionato! No! Mi scusi! Mi scusi, allora! Allora! Signore! Signore, praticamente, io stavo così... Cos'è?! è un noto criminale! E' un noto criminale! Devo scappare! Per distruggere quella ancora più noto criminale ci sta! Si, qual è l'altro noto criminale? Sto qua con il lanciamissili nucleare! Quello che se non si può eliminare si può ottenere il laser mega ultra gun! Ok, il fatto è che è dotato di una termonucleare bomba! Ah! E' sopra! E' sopra! Andiamo a prendere! Ehi, scorona time! No! Oh no! Mi scusi! No! Corri! Dov'è, signore? Aiuto! 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 Non... Ah! Il fucking no! Ah! Li ha eliminato! Sono un noto! Chian! Dobbiamo col birro con la frusta! Non possiamo contrastare tale potenza! Non andrò a mettere il corona time! Ok... Sono qua! Sono qua! Arrampichiamoci! Dove? Guarda! Guarda! Cri! Vedi io ho una pistolina! Ma non è così tanto una pistolina! Ah! E' lancia granate! Bombe nucleare! Quindi questo è l'unicarma che puoi riuscire a contrastarlo! E' corona time! Salve! Salve la mia! E' corona time! 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 E' raccontare il cazzo di vicino! I co- E' raccontare il video! È coro- E' totalmente illegale! Dove siete? Mi scusi! Cri! Aspetta! Cri! 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 vai su coronatime e parli al microfono lo sentono tutti in tutta la mappa il coronatime greca eeeh le cose eeeh cosa sono sti fasci daaaaser ma? ah già no oh it's corona time eeeh eeeh dai zi aiuto eeeh 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 aaaah nooo it's corona time ooo kree hai sentito christian è un chicchione eeeh 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 it's corona time eeeh 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 aaaah eeeh aaaah eeeh 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 no no IT'S CORONA TIME IT'S CORONA TIME IT'S CORONA TIME IT'S CORONA TIME NO 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 SIGNORE IT'S CAZZOLE TIME IT'S CORONA TIME IT'S CORONA TIME ma cosa si ma dai no 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 perchè c'è una rana no no ma è rotto no ma andrea è rotto no 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 ti lancio cosa do no un attimo no 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 mi scusi ma mi scusi il cazzo mi scusi mi scusi la droga mi scusi la droga adesso ti sbobbo no no chi è che mi vuole sbobbare io non esisto oh sono in cima al monte e dove cazzo sei? non ci sono no dove cazzo sei? aspetta no eh cos'è? no cos'è? no mi sono rotto ah ok no scappa no ti prego dai che cazzo no stai zitto DISTORSO mi scusi come no? quello che minchia no hai rotto il cazzo questa spada dai 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 ma cosa c'è? sono un po' un pazzo ma che io sto nello street club oh io sto nello street club oh io sto nello street club si aggira oh sono il piantatore sulla pappa somica no raga sono l'essere immortale no ma che cazzo sei morto noi stiamo combattendo a spada e arte qui no sono la no sono l'essere definitivo sono sbobratore automatico no no dove l'hai trovato? è il pesce è la sfida del pesce l'arma ma io ho un'arma no l'ho mazzata capito ehi forracione il mio archetto potrà contrastarti ahia sporatore però un vantaggio lo sporatore non mi fa un cazzo eh eh non ti fai eh guarda che io posso utilizzare se lo sporatore che cosa insieme e quello forse mi fa male eh giurta un po' oh 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 no però il paint through è sta solamente c'è solamente il pesce esiste bastardo no no io mi rifugio nel mio rifugio rifugio oh Gabriele alleanza perchè questa tropea ma andate oh yeah tu e l'altra alleanza si ho capito sul coronatime ho capito c'è un pa eh l'ho preso una volta col cechino ma il cechino non fa molto eh non fa molto è solamente un cechino che se ti prende con un colpo ti romperà la minchia aspetta mi faccio gli steroidi e ci provo di spada allora buttiamo per te era una mina molto rotta mi prendo il pompazzo e mi spazzo ah raga vi frusto finalmente vi posso frustare ma chi è morto ma no ma c- ma sentite l'erore nooo ma sentite l'erore nooo 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 ora che sono nello street club dobbiamo sborrare andiamo lo scuro ma che mi spari dai è esploso direttamente che camere ma che dovremmo sbobbare fatti gli steroidi e andiamo eh nooo aspetta aspetta vieni qua vieni qua no secondo me dobbiamo andare di spada perchè dobbiamo andare di spada come che non c'è una stile di spada aspetta che la fa prendere nooo nooo la spada nooo eeeh eeeh 会 di cutras vai di cutras vai di cutras vai di cutras NON POTETE ENTRARE! NON POTETE ENTRARE! Sì, vabbè... NON POTETE ENTRA... Aspetta! Ho un'arma che può contrastarlo! Però me la devi lasciar prendere, aspetta! Ho un'arma che può definitivamente contrastare, però mi dovrò trasformare in Shrek per avere quest'arma! Ma cosa?! Si tratta di una pistolina! Ma non è una setice pistolina! Oh no! Può diventare un nom bocone... Ehi, Scorona Time! Sì, vabbè... ARRIVA! ZEROI! NON PUOI ENTRARE! ZEROI al massimo! ZEROI! NON PUOI ENTRARE! OHHHH! You should not pass! No, non, 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 non! No, you should not pass! Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Ma che cazzo c'è? Come cazzo sentiamo more? Sì No, 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 perché? Ah sei morto! Che scolta E io ci ho sudato nella pazzarna Ma cosa? Quando ero morte alle alle... Vabbè sono morto ok me ne ho che me ne vado me ne vado andatevi a prenderle armi termonucleari scarsi L'imbrattatore Andatevi a prenderle armi termonucleari io a me mi basta assolutamente il mio caro pompa Vai l'imbrattatore la spina del pesce A parte che Andrè sai una cosa se tu cammini l'imbrattatore non va Prima definitiva era sempre stata la spina del pesce Andrè se tu cammini non va l'imbrattatore è rotto Non è vero It's Corona Time It's Corona Time It's Corona Time No ti va addosso Non va bene Chi è che sta scolonando Time Eh la Corona Time Scorrona Time Eh cosa Eh ecco lì Eh cosa cazzo Coscra Chi è quello Cosè Chi è che frusta No sono rotto Chi è che sta svolando sui muri La spina del pesce sarà di nuovo in mio possesso Ma cosa Infrusto Ma perché E fra i due litiganti Ma perché Se l'è presa lui Ma che cazzo La spina del pesce No 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 Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché con lui Non è buggata La spina del pesce Perché è già buggata di subo Eeeh Ma perché Ma che cazzo Aiuto IETRO A vero non ho parole Il Corona Time Tutto 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 Oh no scappo No 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 Basta basta Non devo andare dall'imbrattatore Giochino Zero Steroidi 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 C'è la Cos'è Cos'è Alternanza Cos'è Mamma mia Pippo Cos'è Mi è entrato Con la Eeeh Cos'è Dai mi sei entrato Con la spada Si va bene Questo qua Mi entra con la spada Ma fammi prendere Ma perché Non me la Madonna Nel sedere di Alessandro Madonna Perché Sì Sì Invece E' Glu 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 Oh dammi O' Finalmente O' U oh, si ma c***o no, ciccio ciccio, allora, aspetta aspetta, ciccio ciccio lascia il ministero ID eeeh, no, no, il ministero ID non sono tuo, è grosso vabbè, intanto, mentre voi litigate io vado a prendermi l'arma termonucleare bombazzar che scarso, che scarso ah faccio faccio qualcos'altro eh? eh il corona sta ma voglio accogliere ma che del sedere di Andrea ma dai ma non, ma non mi frusto ben bene ma un steroid al c***o vabbè, ma ma dentro cos'è? eh sì, Ale perchè esisti perchè sei nato cos'è? è male è male male si diarrea a spruzzo dal naso eeeh eeeh aiuto aiuto c'è Gabriele c'è Gabriele con la katana lo porto da Gabriele c'è l'ho porto da Andrea cos'è? cos'è? buon attento buon attento vai via oh l'ho rotto ma che è sto qua il frustaiono eeeh 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 dai ti posso frustare ma stia papà ti posso frustare la vigna? eeeh no basta basta bruzzare iiii non cercavi in casa perchè esisti? per morire ma che c***o no per robber il c***o con un porco oh credo ina ina di vita oh Gabriele ma 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 tipo voi sabato o domenica uscite 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 facciamo da qualche eh si intendo tipo venerdì? ah no ma io devo fare tutti io devo fare grammatica eeeh e geometria quelli che daranno venerdì no perchè voi tutto il sabato e la domenica vorrarmi nei pantaloni no vabbè no la pistola è troppo forte le tappe pistole pinto sono una roba atomica guarda guarda che potenza guarda guarda sono rotto sono oh ce l'hanno fatto ok ragazzi e quindi ci vediamo ad un prossimo video insieme a Gabriele e Andrea ciao ragazzi ciao ragazzi ciao